Invitato dall'Organizzazione del Lavoro e il Movimento dei Forconi, il sindaco di Acata Franco Raffa ha partecipato di recente ad un'assemblea tenutasi presso il mercato ortofrutticolo di Vittoria. Occasione importante ha dichiarato lo stesso Raffo per incontrare lavoratori e imprenditori agricoli che hanno espresso profondo valessere. Non nascondo la mia amarezza per questa drammatica situazione, mentre è impensabile sul fronte politico che l'Europa sottoscrive un trattato commerciale con la Cina, dimenticando il Sud Italia e soprattutto la Sicilia prima in realtà al mondo per produzione agroalimentare e vitivinicola. E suona quasi come un'offesa, afferma ancora Raffo, la notizia che un Consiglio dei Ministri si riunisca di domenica per dare 20 miliardi di euro alle banche venete e salvarle dal sicuro fallimento. Sarà giusto, dice Raffo, ma non vediamo nessun cenno di interesse per i problemi del Sud e tutto ciò induce a pensare che ci sia un piano ben preciso finalizzato a trasformare la Sicilia in una colonia di disperati, caratterizzata soprattutto dalla fuga dei giovani più capaci verso i paesi esteri. Le soluzioni, conclude Raffo, basterebbe allora ad esempio studiare opportune strategie offerte dalla Banca Europea, la quale in grado di elargire contributi e accensioni di mutui a condizioni molto vantaggiose, poi altre soluzioni potrebbero invece arrivare dalla a cassa depositi e prestiti.